Dopo 12 ore di viaggio sono arrivati in Argentina. Cecilia e Ignazio hanno una villa enorme e bellissima. Sono un... Dai buttati anche tu dai. Uno, due, perché non funziona con te? Perché sta molto fredda. No, 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 non mi gusta che mi tieni l'acqua. No, 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 non mi gusta. Non mi gusta. Tieni che tirare l'acqua se non mi gusta. Dai, ti andiamo con la testa. Nino! Che nuotatore! Che nuotatore! Nino! Che patatino! Però tiene la scalera per là. E apriamo la stagione con Ercolino! No! La guardate! Mi muoverebbe un sacco? No! La maggiore! È la Gallavano. È la Gallavia. È la Gallavia. È la Gallavia. Laulla di famiglia è veramente enorme. È la pista. È la piscina, è la giusta. È la piscina e si stanno divertendo già tantissimo. Grazie a tutti